C'è una malattia tanto atavica e tremenda da essersi guadagnati il nome di una delle emozioni umane più distruttive, la rabbia. Tanto disumana da essere imparentata con uno dei vizi capitali, cioè l'ira. Tanto immaginifica ad avere fornito negli anni ispirazione per personaggi spaventosi come vampiri, licantropi e zombie che con il loro mosso ci trasmettono la loro stessa follia. Si tende a pensare alla rabbia come una malattia ormai del passato che non ci riguarda, anzi alla rabbia si tende a non pensare affatto, come se fosse qualcosa di remoto, di lontano, di distante dalla nostra società. Eppure il 28 settembre da ormai circa 20 anni si celebra la giornata mondiale contro la rabbia per la sensibilizzazione dei cittadini di tutto il mondo verso la prevenzione di una malattia che ogni anno continua a uccidere fra le 60 e le 70.000 persone, circa uno ogni 10 minuti, oltre il 50% dei quali queste persone sono bambini o ragazzi al di sotto dei 14 anni. Attualmente la stragrande maggioranza dei morti per rabbia si verificano in Africa, in Asia, soprattutto in India, anche in virtù delle importanti difficoltà economiche e logistiche nel reperimento e nella somministrazione di vaccini e di profilassi post esposizione. Considerate che ogni anno al mondo si eseguono circa 10 milioni di interventi post esposizione come conseguenza del morso da parte di un cane ad un uomo. Come abbiamo ormai imparato durante questi anni di pandemia, però purtroppo in un mondo globalizzato come il nostro nessuna malattia è davvero lontana, soprattutto se non la conosciamo bene. E conoscere la rabbia può fare davvero la differenza perché l'unico modo di difendersi dalla rabbia è riconoscere le situazioni a rischio e ricorrere ai presidi medici in tempo. Io mi chiamo Davide Lorenzi, sono un medico veterinario, sono volontario per questa associazione, per questa ONG internazionale che si chiama appunto Mission Rabies e che ogni anno compie numerosi interventi di vaccinazione di massa in giro per il mondo con lo scopo di eliminare e redecare la rabbia nelle zone dove questa miete è più litio. Parlerò di rabbia in una relazione che farò appunto sabato 28 settembre, giornata mondiale contro la rabbia, alle ore 9.30 alla Clinica Veterinaria San Marco, nella Gem Session della Clinica Veterinaria San Marco. Quindi vi do appuntamento in questo giorno e in questa data se volete approfondire appunto il discorso per la rabbia e se volete soprattutto capire cosa ognuno di noi veterinari o tecnico veterinario ma anche un privato cittadino può fare per cercare di eradicare questa terribile malattia infettiva che è unica a un tasso di mortalità del 100%. Tutte le persone che manifestano segni clinici di rabbia e muoiono. Non esistono altre malattie così terribili. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.